Senza problemi non è vero, perché è un personaggio molto complesso, molto malinconico che soffre mentre lo fa, mentre si vende, per cui non è che è un personaggio bidimensionale che si vende quindi è così, così, no, è piena di sfaccettature ed è questa profonda malinconia, questa profonda sofferenza che lei ha dentro, che poi vedrete, a un certo punto Veronica racconterà la sua storia e perché lei non si voglia innamorare, ha paura di provare questo sentimento fino in fondo, non dico che dà delle giustificazioni al suo comportamento, però lo fa capire fino in fondo. Sì, chiaramente è la cortigiana dei potenti che c'è sempre stata, dove c'è il potere, dove c'è corruzione, c'è anche sesso come merce di scambio, per cui è un personaggio attuale ma anche storico, perché c'è sempre stato. Io credo che le nuove generazioni possano cambiare qualcosa e credo che qualcosa stia cambiando, perché l'emancipazione femminile esiste e porterà a fare dei passi avanti, poi esiste anche il libero arbitrio, per cui ognuna sceglie per sé. Grazie. Grazie. Grazie.